Elinora e Giacomo Eva, è scoppiato l'amore dopo Amici 2019.Ne abbiamo già parlato in passato Di cosa? Del reciproco interesse di Elinora e Giacomo Eva di Amici 2019. A lanciare il gossip era stata Giordana Angie, che aveva parlato per la prima volta di questa coppia Elinora, però, ha dovuto abbandonare il talent show di Canale 5 durante la fase di formazione della classe e non abbiamo avuto più notizie su di lei e Giacomo Ora che anche il cantautore ha dovuto abbandonare la scuola, c'è stato magari qualche incontro tra i due? I fan sono curiosissimi di sapere come si è evoluto il loro rapporto e se quella simpatia iniziale è diventata qualcosa di più serio Qualche commento ha innescato dei sospetti.Fisico di Giacomo Eva fa impazzire i fan, ed Elinora Vi abbiamo raccontato cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici e cosa ha detto, ora non possiamo astenerci dal darvi dei gossip su Giacomo e dell'Inora, visto che c'è stato uno scambio di battute sul profilo Instagram del giovane Giacomo ha pubblicato una foto in cui ha esibito il fisico, commentando così, ed ora una doccia che lava via la stanchezza e rilassa i pensieri Che musica metto nel mentre? Elinora è stata una delle prime a rispondere. Cosa ha scritto? Ha risposto con delle fiamme. La foto le è proprio piaciuta Amici 18 Gossip, cosa sta succedendo alle coppie del talent? Ora come ora Giacomo Eva non sembra però impensionato a concentrarsi sulla costruzione di una relazione, è pronto a regalare ai suoi fan la versione completa di Errore è bellissimo, di Elinora sappiamo invece meno Quello che possiamo dirvi è che sfornerà un singolo con un DJ, Dolcetti, ho una notiziona per voi. Il 25 gennaio uscirà il mio nuovo singolo Stay in collaborazione con il super DJ Greco Mossel Non vedo l'ora di farvelo ascoltare. Siete pronti? Chissà se nascerà l'amore anche al di fuori di Amici 18, è possibile comunque. Basti pensare a quanto stiano facendo chiacchierare Andrea Smuller e Veronica Peparini, abbiamo nuovi indizi su di loro Ma anche un'altra coppia è al centro del gossip, quella formata da Tisce e Alberto, che ora hanno avuto uno strano riavvicinamento Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like